adesso passiamo alla decina numero 9 di mosca se noi ci sforziamo e pensiamo alla grandezza del creatore che dobbiamo essere uniti a lui quando diamo importanza al nostro desiderio l'intenzione per il creatore, la nostra intenzione comune allora in questa intenzione si uniscono i nostri cuori dalle parole di Rav della classe del mattino dell'11 di maggio amici, cerchiamo di sentire, di condividere questa lezione che arriva a noi con il pensiero sul processo che stiamo vivendo nei nostri luoghi avanziamo un po' e ancora un po' rispetto alla realizzazione dello scopo della creazione continueremo la nostra preparazione con questi pensieri in silenzio